E parliamo ora dell'aeroporto di Malpensa che detiene un record poco invidiabile. Ce ne parla dallo studio Claudia Mondelli. Sì, perché proprio l'aeroporto di Milano-Malpensa è la porta d'ingresso aerea della droga in Italia. Primo tra tutti gli aeroporti nazionali. Più del 76% della cocaina importata illegalmente è stata scoperta qui quasi quattro volte rispetto a Roma-Fiumicino. Al terzo posto, in graduatoria, c'è l'aeroporto di Milano-Linate. Si tratta di un primato relativo, visto che la polvere bianca entra principalmente via mare, ma che diventa assoluto se si parla di eroina. 43 infatti sono stati i chili sequestrati dopo l'atterraggio, quasi i due terzi di tutte le frontiere aeree. I dati sono riferiti al 2022, sono stati diffusi nell'ultima relazione annuale del Viminale, che dice anche delle 3220 operazioni antidroga in Lombardia, un'ottantina in meno rispetto al Lazio, che è al primo posto della classifica. Sul fronte dei sequestri, la cocaina di cocaina è la Calabria invece a guidare questa classifica, ma se si torna all'eroina è la Lombardia di nuovo prima. Ma qui infatti le forze dell'ordine hanno rintracciato più di un terzo dello stupefacente di tutto il paese. Ho concluso.